ciao a tutti ragazzi siamo tutti e questo è un video di youtube e animo a fare la terza missione della ribellione adesso che ho poca vita perchè appena ne ho già combattimento mi stanno ancora sparando quindi mi cerco di andare a riparare via sopra saliamo 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 tagliamo ancora ecco può bastare allora la missione vado a vedere allora distruggi la struttura sopra il ricevitore di dati poi raccogli lì a poi e poi si raccogli li raccogli i suoi dati cioè non lo spiegata per me ma la studio da casa e spero di trovare qualche cura ok ho trovato sti robi adesso ritorno dai johnson si poteva andare stocco però vado andare per prendermi le cure un bel po' più su si poteva andare ok sti roba apriamo ok ritorniamo dai johnson ai johnson ok ok forca vacca non riesco a metterla a fare quello che devo ok ok ecco non ci credo faccio sto scendonea e vado perchè dai non è che tanto vizio e adesso che ne ho più di 100 posso andare faccio sto missione ok forse sarà quello il punto grosso ok eccolo tutto attorno al mio ricevitore comprometterà il segnale distrugge il soffitto per ripristinare la connessione poi scarica i dati del ricevitore quando dovrei distribuire la soffitta io devo distruggere il soffitto mi ha detto va mi aiuti un po questa visione che fai distribuire strutture sopra il ricevitore quando c'è la macchina devi spegnere la radio quando c'è la macchina non questo quale c'è un terreno con lo spazio posto ok la città la città la città l'ho fatto quindi grazie ci vediamo alla prossima missione ciao